Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili fiovaschi. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con acquazioni intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazioni intermittenti.